Il disegno di legge provinciale contro l'inquinamento luminoso è una foglia di fico per nascondere degli articoli ad personam. Queste le testuali parole del comunicato consegnato ai giornalisti in conferenza stampa dai Verdi Altoatesini. Secondo Curi dello Sbarba Heiss e Kustatcher, come sostiene Leimatflegerverein, dietro la facciata di quella di DL si nasconderebbe ben altro. Ma è una foglia di fico perché a 16 articoli sull'inquinamento luminoso c'è solo il primo che è lungo 12 righe, quindi quasi niente, che dice che l'inquinamento luminoso è grave e che la giunta provinciale dovrà fare qualcosa, non si sa quando, ma poi dopo vengono una serie di articoli invece che ciascuno va incontro a qualche esigenza o benefica qualche personaggio con nome e cognome. I Verdi in particolare puntano i riflettori su due casi che si celerebbero dietro alla facciata di questo disegno di legge. Il primo caso evidentemente risponde alle esigenze che ha la ditta saleva nella nuova sede della zona industriale di Bolzano. Contrariamente a tutti gli altri cittadini e a tutti gli altri imprenditori di questa provincia può aprire un punto di vendita a dettaglio nella propria sede di produzione. L'altro caso invece riguarda un'altra impresa grossa della provincia di Bolzano, la Habitat del genometro Tosolini. Lì il caso riguarda Merano. Nel 2005 Tosolini ha avuto la concessione di Lizia per ricostruire un grosso volume di cubatura al posto dell'ex hotel Bristol che ha abbattuto. Visto che c'è la crisi economica l'imprenditore può chiedere altri tre anni di proroga di concessione di Lizia. Quindi 2005 più 3 più 3 più 2 vuol dire che il cantiere può stare aperto 8 anni senza che sia messo un mattone sopra l'altro. Grazie. 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 Grazie.